Vengo opportuno anche oggi dover rinviare per motivi tecnici, nel senso che ci sono pervenuti altra documentazione da parte dei comitati e da parte dei sindaci dove chiedono la posizione tecnici. Quindi ho avuto la proposta e nel frattempo vi richiediamo tempo per poter poi discutere la posizione del prossimo Consiglio e per il quattro messa ormai è stata ufficializzata per il 19 maggio. Qui farete una attenzione e fare in modo che il Governo regionale insieme a tutto il Consiglio dia una risposta certa su questo problema altamente delicato ma importante per questa regione. io credo che potremmo fare una sola votazione su questo anche se per quanto riguarda la questione dei ricassificatori si tratta in alcuni casi di una iscrizione all'ordine del giorno e in caso invece di anticipazione sulla proposta dei consiglieri Lucciarelli e Vinci di anticipare il punto 11 con queste cose che però sono state dette dichiaro aperta la votazione. di chiaro chiusa la votazione. di chiaro chiusa la votazione. di chiaro chiusa la votazione.